La mia esperienza quindi nasce già come Kiva Junior in un ambito giovanile. È stato facile per me poi diventare Kiva Senior. La mia discesa è in Sicilia, nella mia Augusta, dove ho ripreso i miei contatti, le mie frequentazioni con le persone a me più care, che già esistevano all'interno del Kiva Senior Augusta. Quindi sin da subito ho capito che potevo svolgere un nuovo ruolo, un ruolo da serio, anche se giovane, quarantenne, che mi proiettava, dopo dieci anni fuori per motivi di lavoro, verso la realtà mia cittadina agognata. Il Kinais è un vivere, diciamo, pieno di responsabilità da parte di tutti i soci. Innanzitutto perché è un vedersi, un discutere, un porsi delle domande, cercare di dare delle risposte, ed è tutto una metodologia per migliorare le nostre attività, le nostre risorse. Il successo, per un Kivaniano, lo sento fortemente, consiste nell'essere in pace con se stesso, sapendo di essersi sforzato per dare il massimo, di cui si è capaci. In fin dei conti, più che il risultato, penso, che conti l'impegno che noi ci mettiamo. Come dice Cervantes, il viaggio è il più importante della meta. Quindi il nostro viaggio itinerante, e che si è svolto da 33 anni a questa parte, è un viaggio che continua, al di là dei nostri risultati, che sono secondo le nostre città. Grazie.